Il ciclo di Catechesi Facciamo questo viaggio, ovviamente nella fede, nella vita del mondo che verrà. Ovviamente questo ciclo di Catechesi, anche se quell'altro può apparire più entusiasmante, è quello più importante perché ne è la base. Qui c'è la piattaforma delle verità di fede, di tutte le verità di fede, su cui si fonda la nostra attesa della vita del mondo che verrà e di quello che ci attende. Fede divina e cattolica perché qui non stiamo parlando di opinioni, vedremo che questa sera che introduciamo il giudizio particolare cominceranno ad essere tirate fuori un po' di armi di artiglieria pesante. Non soltanto la Sacra Scrittura, che certamente è la bomba atomica più grande che esista, ma anche fonti provenienti da Aldenziger, quindi dalle dichiarazioni vincolanti, susseguiresi nel corso della storia da parte di Papio Concidio, quindi magisterialmente significative. Quindi ci aspetta questo cammino, è molto importante farlo bene perché come sempre, credo che ormai sappiate, la formazione e il dottrinare specialmente in questi tempi è assolutamente importante, basilare, oserei dire, imprescindibile. Allora, ci introduciamo al tema del giudizio particolare. Ora, il Nuovo Testamento, questo lo possiamo dire come prima battuta, prevalentemente sembrerebbe parlare del giudizio universale, noto per esempio, è noto il caso famoso del Vangelo di San Matteo, quindi tutti conoscono, ricorderanno il capitolo 25, il giudizio universale, le pecore a destra, i capri a sinistra, Gesù dice alle pecore venite benedette dal Padre mio, e ai capri, ad a miei maleretti nel fuoco eterno, no? Tutte quante le nazioni radunate dinanzi al figlio dell'uomo, il giudice del mondo e della storia, e quindi poi la duplice destinazione delle anime. Però, ecco, ci sono anche degli evidenti riferimenti al giudizio particolare, sia nei Vangeli che nelle lettere di San Paolo e nelle altre lettere apostoliche anche. Ovviamente, come sempre, è corretto e doveroso partire anzitutto, appunto, dei dati biblici, neotestamentari. Ne vedremo alcuni, ma abbastanza eloquenti e poco facilmente equivocabili. Cominciamo dal Vangelo. Un Vangelo che abbiamo sentito, peraltro, voi siete tutti bravi ovviamente dalla Messa tutte le domeniche, non molte domeniche fa durante la liturgia, no? Un Vangelo, un mendicante, siamo nel Vangelo di Luca, capitolo 16, versetto 20, di nome Lazzaro, giaceva alla porta del ricco, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sevolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levo agli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro da accanto a lui. Ovviamente riprenderemo questo brano quando parleremo dell'inferno. Ora ci interessa sapere però che, istante la narrazione di Gesù, il povero muore e viene portato nel seno di Abramo. Attenzione che il povero non stava in paradiso, perché Gesù ancora non era morto, sepolto e risorto dalla morte, e discesa agli inferi. Ma stava nel seno di Abramo, in quello che la tradizione ha chiamato il limbo dei santi padri. Certo stava molto meglio di Lazzaro, perché nel limbo dei santi padri, e anche nel limbo non dei santi padri, ma nel limbo in generale, come vedremo, che a differenza del limbo, che ho già detto del purgatorio inferno e paradiso, non è dogma di fede, ma un tempo dottrina comune, si sta molto meglio rispetto all'inferno evidentemente. Quindi è vero che non c'è la visione beatifica, ma come insegna Sant'Ommaso, si gode anzitutto dell'assenza di ogni dolore e poi di una felicità naturale che già in un primo momento, insomma, un pochino appagano. Quindi per questo che c'è questo dialogo, quello stava nei tormenti, stava nell'inferno dei dannati, mentre invece il povero stava nel seno di Abramo, quindi nel limbo dei santi padri, in attesa di poter accedere al paradiso per la redenzione operata da Cristo. Ma questo è un giorno morì il povero, quindi questa è una situazione che accade immediatamente dopo la morte. E quindi attraverso questo Vangelo comprendiamo che subito dopo la morte c'è una diversificazione delle destinazioni delle anime, che dipende da come sono vissute e da come sono morte. Altro brano significativo del Vangelo secondo Luca, molto significativo, è il celebre vicero del buon ladrone. Tutti lo conoscono, se Gesù sta in croce in mezzo a due malfattori, uno gli analice in sacca e in asporta, dice ma come? Tu sei il Cristo, facci scendere! E quell'altro lo rimproverano, quindi dice guarda che noi ci sta bene che stiamo qui, questo invece non ha fatto niente di male. E poi aggiunge, Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli risposi, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. È chiaro che se oggi il ladrone sta con Gesù in paradiso, primo santo canonizzato, nostro Signore sarebbe riservato per sé, no? Non per le virtù eroiche, ma per il pentimento perfetto. Questo condannato a morte, essere condannato a morte con il nostro Signore, certamente lui era un malfattore, era un criminale. Insomma, diciamo che al buon ladrone gli è andata di lusso, insomma, che meglio di così non ci poteva andare. Gli sarebbe andata bene di lusso pure al cattivo ladrone, il problema è che il cattivo ladrone non ha colto quella scienza. Qui c'è sempre lo sfondo, sempre molto inquietante della nostra libertà. Anche a Giuda Scariota era andata di lusso, ma purtroppo sappiamo bene alla fine che ha fatto. Quindi il fatto che Gesù dice, oggi entrerai con me in paradiso, se oggi entrerai con me in paradiso, vuol dire che immediatamente dopo la morte c'è una diversificazione della sorta delle anime, questo è evidente. Passiamo adesso all'epistolario Paolino, cominciando dalla seconda lettera ai Corinzi, che è il versetto 4, in particolare 14. Cominciamo a leggere dal 13. Allora, nel capitolo, cominciamo a leggere, che è meglio. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto, ho creduto, però perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia è ancora più abbondante e verrà proprio di un maggior numero, molti picchino di rota alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, attenzione, questa è una delle letture che si legge a funerali, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo e il leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterni. Attenzione, sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo nostro corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo nei cieli. Chiaro che qui il Signore San Paolo sta facendo riferimento al giudizio particolare. Un pochino più avanti, sempre nella stessa lettera, che è il capitolo 5, il versetto 8, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Tutti dobbiamo comparire, versetto 10, davanti al tribunale di Cristo, questa è proprio l'attestazione esplicita del giudizio particolare, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Qui in questo versetto c'è proprio praticamente, potremmo quasi quasi gente a rompere la carichesi. Tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Tutti, eh? Non c'è, pantas è in greco, eh? Quindi, è necessario, dei, che tutti, tus pantas, emas, tutti noi, fanerothenai, quindi dobbiamo comparire, dobbiamo apparire, emprosten, davanti, tu bematos, questo è proprio, come dire, il posto del giudice, quindi davanti alla sedia del giudice, sarebbe letteralmente, no? Quindi, cioè il tribunale di Cristo, per ricevere la ricompensa, ina comisetai e castos, ta diatus omatos, pros a epraxen, eite agaton, eite afro. Attenzione, eh, eh, per ricevere ciascuno, secondo quello che ha fatto, comisetai è proprio, allora, comisetai è un, ricevere indietro, quindi, quello che hai fatto, ti torna indietro, questo è proprio il, cioè, è proprio la retribuzione, in senso stretto, e la giustizia, in senso stretto, il giudizio, serve ad applicare alla giustizia, e qui bisogna subito schiarirsi, un pochino di idee, perché la giustizia, attenzione di Dio, è rigorosissima, rigorosissima, e oggi, la questione della giustizia divina, viene, come dire, complicata, da una, predicazione, a volte veramente, inaccettabile, e, confusionaria, sulla più bella, più grande, la più grande, più importante di Dio, perché senza quello, chiudiamo tutte quante le baracche, perché nessuno di noi, c'è nessuna speranza, che è la misericordia, numero uno, numero uno, cominciando a capire bene il discorso sulla misericordia, la misericordia scende su di noi, questo non dimentichiamolo mai, perché la giustizia di Dio, come spiega San Paolo, si è compiuta in Cristo, cioè perché i peccati di tutti, li ha portati sulle spalle, e li ha pagati, fino all'ultimo spicciolo, il nostro Signore Gesù Cristo, con una passione, di una morte, orrende, non dimentichiamolo mai, se uno legge l'opera, esemplare, anche se non certo la portata di tutti, di Sant'Anselmo d'Aosta, che è il Cur Deus Homo, lo spiega benissimo, lo spiega, misericordia, 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 è certo, tutti i peccati che ho fatto io, tutti i peccati che ho fatto io, li ha scontati il nostro Signore, attenzione, perché io potessi avere misericordia, non perché anche io, poi, non li abbia a scontare, attenzione, perché arrivi la misericordia, chi conosce la Divina Volontà, è un pochino aiutato, nella comprensione di questi concetti, perché la Divina Volontà, gli scritti della serva di Dio, l'isabito di Carretta, tante volte ricorre questo concetto, si dice che in Dio, tutto deve essere continuamente riequilibrato, non ci potrebbe mai essere la misericordia, cioè tutto quanto la montagna di male, prodotto dal peccato, le offese infinite a Dio, in continuazione poste in essere dal peccato dell'uomo, da quando è stato commesso il peccato originale in poi, ma non possono rimanere così, cioè è ovvio questo qua, ecco perché, non soltanto i tre giorni della passione, ma tutta la vita di Gesù è stata, spesa a questo fine, anche qui, anche chi conosce gli scritti della serva di Dio, l'isabito di Carretta, in 33 anni, il nostro Signore ha rifatto gli atti e la vita di tutti gli esseri umani che ci siano già, cioè non esiste nessuna vita di un essere umano che non abbia, come dire, per capirci, una copia autentica, perfettissima, realizzata da nostro Signore Gesù Cristo, è così, un'anima può finire dannata, ma un'anima che finisce dannata, nega a Dio la gloria soggettiva, la gloria estrinseca, ma questa non è una cosa possibile questa qui, perché sarebbe come dire che Dio ha fatto una cosa che poi andrà perduta, andrà sprecata, Dio non fa mai queste cose qui, e quindi chi ha dato gloria a Dio per quella vita sprecata, c'è, c'è stato, che è il nostro Signore Gesù Cristo, poi c'è stata la Madonna, e poi per chi conosce la Divina Volontà, anche coloro che vivono nella Divina Volontà possono partecipare e fare qualcosa di molto simile, analogo a queste operazioni. Oh, questa è la misericordia, ma attenzione, la misericordia non cancella le esigenze della giustizia, cioè, che cosa significa? Significa che se io, allora, la misericordia funziona così, la misericordia evidentemente rimette i peccati mortali, quindi che cosa significa? Cancella, non il fatto, ma l'offesa a Dio, quindi Dio rimette questa sua offesa, ricevuta dalla prevaricazione di una creatura, gli restituisce la grazia perduta, e, allora muore, la possibilità di accedere alla gloria. Ok? Ma come terminano le nostre confessioni? Per penitenza fai questo, cioè, il male che tu hai fatto, è vero che il nostro Signore l'ha già tutto quanto pagato e riparato, è vero, ma, come ha sempre insegnato la Chiesa, questa riparazione perfettissima che il nostro Signore ha fatto di tutto, ci viene applicata a noi mortali, una volta sola. Gesù Cristo è morto una volta sola per tutte? Bene. I meriti integrali, infiniti della sua passione, quindi, puliscono tutto, sia le colpe che le pene per giustizia dovute alle colpe commesse, ci viene applicata una volta sola, quando? Nel battesimo. Mo' vengono battezzati i bambini, e quindi il bambino viene fatto a piazza pulita, fondamentalmente soltanto delle pene dovute al peccato originale. Ma se venisse battezzato un adulto, se un adulto chiede di il sacramento del battesimo, non deve confessarsi. Perché? Perché il battesimo è appunto amministrato per la remissione dei peccati, e insieme però ai peccati, il battesimo ne mette anche tutte le pene dovute per i peccati. Il sacramento della penitenza? No. Ecco perché il sacramento della penitenza, l'ho detto tante volte, termina con per penitenza, fai questo. Molti fedeli continuano a dire che ci sono confessori che non danno la penitenza. Ora, certamente per le confessioni leggere, di devozione, ora, nell'attuale disciplina della Chiesa, la penitenza sacramentale, ha di fatto assunto un carattere prevalentemente simbolico, anche perché non c'è nessuna possibilità di agire diversamente, perché nell'attuale coscienza ecclesiale già è miracolo se qualcuno si va a confessare. Pensiamo che si possa, se in un contesto ecclesiale si potessero dare, si possono dare le penitenze che venivano date negli anni, intorno all'anno 1000, ma non le farebbe nessuno, ma partirebbero le denunce penali per i preti, sicuramente le denunce ai vescovi, 100%, senza dubbio. e sarebbero severamente retarguiti. E allora che dobbiamo fare? E allora figlioli, figlioli, miei cari, se non vogliamo stare troppo tempo a tribunare in purgatorio, ci rimbocchiamo le maniche e le facciamo da soli, eventualmente. Perché il tribunale di Cristo è rigoroso, hai fatto del bene, ne avrai premio, ne avrai gloria e i gradi di gloria che avremo in paradiso saranno tanto maggiori, quanto maggiore è il bene che abbiamo fatto, quanti più sono gli atti virtuosi che abbiamo commesso, che abbiamo compiuto. Non si sfugge da questo qui, e le pene temporali nel purgatorio, eterne nell'inferno, se abbiamo peccato mortalmente e siamo morti senza esserci pentiti, saranno esattamente quelle dovute in base alla gravità e al numero dei peccati commessi. Rigorosissimo, Dio non guarda in faccia a nessuno, lì non c'è nessuno che è il figlio del luogo a bianca, sia in bene che in male, la giustizia non funziona soltanto per il male, ti presenti un'immagine di Dio vendicativa, che è rigorosa, è un terrorista, tutte le frasi trite e ritrite che si dicono adesso in giro. Punto primo non è vero, ma punto secondo questo non funziona soltanto per il negativo, questo funziona anche per il positivo. è una grande consolazione, no? Quindi, altro testo ancora di riferimento, la lettera agli ebrei. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato a loro che l'aspettano per la salvezza. Quindi, gli uomini muoiono una volta sola, quindi, non esistono le incarnazioni e le cretinate di questo genere qui ovviamente, dopodiché viene il giudizio, scritto a termini chiarissimi, quale giudizio? il giudizio è particolare. Ancora, la lettera agli ebrei, questa volta andiamo al capitolo 12, eccolo qua. voi vi siete invece accostati al, siamo a versetti 22-23, al monte di Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a Miriade di Angeli, alla donanza festosa e all'assemblea dei primogeniti scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione. Vedete, Dio, giudice di tutti, cai, criteteo, panton, teo significa a Dio, critee, che viene da crites, che è proprio il giudice, giudicare è crino, verbo, panton, di tutti, quindi altro che Dio è giudice di tutti, è giudice di tutti, certamente chi ricorre al suo nome, chi lo invoca, chi si affida, troverà clemenza, chi ha cercato di riparare, espiare le proprie colpe, amici, dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, non possiamo pensare che, vabbè, vado a confessare e poi è finito, no, non è finito, io l'ho sempre detto, non mi importa nulla quello che poi mi vanno a tirare dietro, ma che l'ho detto perché me lo metto io o perché mi fa piacere, a me non è che fa tanto piacere questa cosa, perché pure io devo fare penitenza, forse se non voglio farmi troppo purgatorio, ma cioè, noi non possiamo predicare quello che ci fa piacere o quello che non ci fa piacere, noi dobbiamo predicare la verità, ciò che è certo ciò che è sicuro, si sentono dire in giro, ah Dio non è un giudice, ah Dio non castiga nessuno, ma questo è esattamente il contrario di quello che si legge nella saga scrittura, ma come si permette chi dice una cosa di questo genere a fare un'affermazione di questi? Come si permette? E nessuno che gli vada dietro potrà poi dire ma l'ha detto l'ha detto quel ministro? E che me ne importa di quello che ha detto quel ministro? Controlla quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica oltre che la saga scrittura che adesso ci andremo a vedere subito, quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che riflette l'insegnamento di alcuni concili al riguardo che adesso andremo poi a vedere quindi dopo questi testi biblici andiamo a fare uno step al numero fondamentale del Catechismo della Chiesa Cattolica che parla del giudizio particolare che è il numero 1022 il quale fa riferimento neanche troppo sottointeso mica a uno eh almeno a tre quattro forze concili sicuramente il Lione 2 Firenze e il concilio di Trento sicuri ma anche ci dovrebbe essere qualcosa se non ricordo male poi andremo a vedere dietro questi numeri del Densinger del Lateranense quarto tutto concentrato in un numero eh e leggiamolo questo numero 1022 ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna leggo tutto poi commento in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo per cui o passerà attraverso una purificazione o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo oppure si dannerà immediatamente per sempre più chiaro di così allora cosa dice sto numero anzitutto che non vanno tutti in paradiso perché insomma anche questo non è che io ci godo che sono contento a me dispiace a me piacerebbe che andassero tutti in paradiso a chi a chi a chi di noi non piacerebbe perché che si augura la dannazione non si deve augurare neanche al nostro peggior nemico o anche se non fosse nemico neanche alla persona più malvagia del mondo perché la dannazione è l'orrore assoluto però esiste o queste tre diversificazioni della condizione post mortem ma da chi dipendono ma dipendono semplicemente da quello che tu stai facendo in questa vita quello che Dio dà è una retribuzione termine tecnico allora che cos'è la retribuzione? quello che ti torna indietro no? retri retro buere in latino ti torna indietro quello che semini raccogli quello che hai fatto ritrovi punto cosa dice Gesù nel Vangelo io non posso fare nulla da me stesso giudico secondo quello che osservo il mio giudizio è giusto quello che è perfettissimo del giudizio di Dio è che lui è capace di valutare con perfezione assoluta gli atti le intenzioni le circostanze il background con cui noi li compiamo che anche quello ha una sua influenza che nessun uomo può valutare perfettamente ma l'effetto del giudizio è retribuzione quello che ti meriti avrai quello che ti sei meritato e non andiamo a fare troppi eh cioè una predicazione distorta della dottrina della misericordia cioè neanche si deve fare il discorso dice ah beh adesso ho fatto tanti peccati ma tanto mi confesso e poi ma forse qualcuno penserà che per esempio un vizioso può sponire una persona che era stato un vizioso un lussurioso che ha fatto un autotrenno di 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 peccati impuri e che cosa succede dopo? che succede? cioè noi sacerdoti specialmente quelli che confessano io se potessi fare a meno confesso e seguo la dottrina del santo curato d'Ars il santo curato d'Ars dice che i preti piangeranno quando andranno davanti al cielo se hanno occupato due funzioni quello di parroco e quello di confessore perché? perché tu c'è la responsabilità addosso della gente e se quelli vanno a finimare non è che non è che il nostro il nostro signore qualcosa te lo chiede tu sei in grado prete parroco confessore di dire io ho cercato di fare del mio meglio sicuramente disastro assoluto ma almeno ci ho provato un prete quando confessa non può fare la confessione cioè tu lo devi ammonire un peccatore specialmente quando capitano i casi di peccati recidivi i viziosi per esempio nei peccati impuri tu glielo devi dire stai attento con ogni peccato impuro che fai tu non hai idea di quei guai che passerai poi non pensare che vieni qui e ti confessi di te la soluzione è finito non è male non è finito ma come niente non è finito è finito nel senso che se sei pentito e quando uno comincia ad essere troppo decidivo bisogna anche verificarla questa cosa qui ti viene restituita la grazia ma tu pensi che quel male che tu hai fatto ci siamo belli che lavati le mani se mori te ne vai in paradiso direttamente pensi questo la nostra fede non si fonda sulla paura evidentemente la nostra fede si fonda su altro ma il santo curato d'Ars diceva che è comunque diritto di un fedele e dovere di un pastore anche a munire sulla parte severa della nostra fede sulle conseguenze di quello che facciamo c'è una retribuzione i lavoratori dipendenti sanno bene che la retribuzione è retribuzione se c'è una busta è tutto quanto scritto hai fatto 18 ore di lavoro quanto prendi 6 euro all'ora moltiplichi 6 per 18 punto hai preso 5 giorni di permesso quanto è il permesso questo attribuito questo scritto sulla busta paga e questo è rigorosissimo perché Dio ripeto non fa preferenze nell'accettazione di persone tu non ci stanno i figli dell'occhio ma io sono il papa peggio ancora se sei il papa peggio ancora d'accordo perché peggio se il santo Crodo d'Arsa diceva i preti piangeranno davanti a Dio se sono stati parroci o confessori e se sono stati i vescovi e se sono stati i cardinali se sono stati i papi qui si sente dire che nella chiesa qualcuno dice che c'è il cardinalismo va va io se potessi evitare di fare il parroco e il confessore come lo dico io lo farei molto molto volentieri perché ti prendono nel cuore il senso di responsabilità io a certe volte mi trovo in situazioni difficili perché se dici una cosa corri il rischio che si rivoltano contro che succede il finimondo ma se non la dico io poi quando sono morto il nostro signore mi dice oh ma che ti ho messo a farla tu il peccatore lo devi ammonire cioè io per me ammonire il peccatore non è un'opera di misericordia spirituale come per per voi nei confronti dei vostri simili perché per una persona costituita in autorità a morire un peccatore è un dovere e non lo posso non fare se non posso si vuoi pure io capite giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo poi vedremo non oggi sicuramente perché adesso ci andiamo a fare un bel giro attraverso tutti questi riferimenti che sono stati fatti qui è un giro nei concili allora ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale quindi la nostra anima è immortale il nostro corpo si decomporrà e acquisirà lo status di cadavere da un certo punto in poi una volta che c'è l'essere questo non dimenticatelo mai figlioli miei cari una volta che c'è l'essere se Dio dà l'essere a qualcosa non glielo toglierà mai più ecco perché i demoni continuano ad esistere qualunque cosa succeda l'essere non si tocca se Dio te l'ha dato non ti sarà mai toccato questo è un concetto capire bene questa cosa è fondamentale facciamo per esempio come al solito le intercomunicazioni delle catechesi anche per capire per esempio quella rivelazione del tutto peculiare che viene fatta a tenere amato dell'eternità creata o della quinta dimensione se uno non capisce che l'essere che Dio ci ha dato semplicemente è permane e non può essere tolto non capirà mai un H di questa dimensione allora ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima e mortale l'attribuzione eterna è un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo perché passerà attraverso una purificazione e qui si aprono una serie di parentesi la purificazione allora il primo è il concilio di Lyon tutti quanti dicono Lyon ma Lyon in francese a casa mia si pronuncia Lyon quindi è meglio essere sempre fedeli alle lingue quando si parlano altre lingue e non fare le italianizzazioni quindi il concilio è di Lyon secondo cosa dice nei numeri del Densinger 857 858 le anime di coloro che dopo aver ricevuto il santo battesimo non sono in corse mai in nessuna macchia di peccato e anche quelle che dopo aver contratto la macchia del peccato secondo quello che è stato detto sopra sono state purificate sia quando erano ancora nei corpi sia quando di questi erano state spogliate subito sono accolte in cielo quindi chi ha l'aspirazione di andare direttamente in paradiso che sapeste quanti mi dicono ah io so io aspiro ad andare direttamente in paradiso dico sì buona penitenza figliolo caro pure se sei un bravo ragazzo perché in paradiso non si entra dicono i maestri di spirito nemmeno per una imperfezione involontaria non purificata capite che significa un'imperfezione involontaria un'imperfezione involontaria tanto per fare un esempio è che mi trovo dinanzi ad una persona ok potrei fare una piccola delicatezza una piccola manifestazione di carità e non la faccio non perché dico capisco non la voglio fare e quindi non la faccio potrei fare ma questo non gliela voglio fare questa è un'imperfezione volontaria un'imperfezione involontaria o che mi scappa per esempio una rispostina come dire non perfetta non dico sgarbata che già andiamo oppure pungente ma non perfetta no? potevo essere più caritatevole nel dare quella risposta già questo deve essere poco ma deve essere purificato pure questo queste cose le devo dire non mi diverto affatto a dirle non mi piacciono se uno lo vuole sapere e non piacciono neanche a me lo so che non piacciono a chi mi ascolta ma non piacciono neanche a me ma questa è la verità noi non abbiamo nessun potere contro la verità nessuno ma per la verità dice San Paolo poi continua le anime di coloro che muoiono in peccato mortale o con il solo peccato originale attenzione subito discendono all'inferno anche se punite con pene differenti qui capite subito che questi punti li riprenderemo quando parliamo del paradiso dell'inferno attenzione qui distingue quelli che muoiono col peccato mortale e col peccato solo originale e vanno all'inferno dice per essere puniti con pene differenti questo è uno dei fondamenti dottrinali dell'esistenza del limbo e questo è un concilio ecumenico dove è contenuto una professione di fede non si può prendere questa roba qui cioè quando un concilio ecumenico è peraltro dogmatico tu non lo puoi prendere e buttarlo via ignorando quello che ha detto puoi fare tutti i ragionamenti teologici che ti pare tutti quanti i progressismi e gli aggiornamenti che ti pare ma questo sta scritto qui ancora prima quando parla della sorte dei defunti 856 dice se coloro che fanno sinceramente penitenza sono deceduti nella carità prima di aver pagato la pena con degni frutti di penitenza a seguito di cose fatte o di cose omesse le loro anime sono purificate dopo la morte così come c'è chiaramente esposto frate Giovanni ordine dei frati minori con pene che lavano e purificano e a sollevarli da pene di tali genere cominciamo a prepararci al mese di novembre giovano loro i suffragi dei fedeli viventi vale a dire i sacrifici delle messe le preghiere le elemosine e gli altri esercizi di parietà di carietà che sono soli di farsi secondo le indicazioni della chiesa da defedere a vantaggio di altri fedeli non possiamo dire e predicare nient'altro che questo in paradiso qui gente va a funerare di gente che ha una vita che non mi ha messo piede in chiesa ha adesso l'animo del nostro caro che è tornata alla casa del padre è volata addirittura volata al cielo il terra espressione volare al cielo io lo dico anche mi dispiace a qualche follower qualcuno mi scrive una mail mi fa ah mia madre è volata al cielo l'altro giorno dico tu non ti rendi conto ma che ti è volata al cielo scusami un attimo volato al cielo è un modo di dire a parte il fatto che se lo riserviamo al nostro signore è meglio lo sa lui chi è che vola al cielo noi non possiamo essere sicuri ma quando muore in santo si dice che è volato al cielo un martire io voglio sperare che tua mamma tuo papà fossero dei bravi cristiani per carità ma dire volato al cielo è dire una cosa grossa chi sei tu per dire una cosa di questo genere noi non ci pensiamo ma tu chi sei per dire una cosa di questo genere che sei il padre eterno io non mi stancherò mai di ripetere il giorno della morte cosa che l'espressione usatela per scrivere necrologi e per parlare ha reso l'anima a Dio per farci cosa per subire il giudizio particolare perché quando noi moriamo cosa succede? succede che noi ci troviamo e Dio ci chiede dell'anima che io ti ho dato bellissima meravigliosa con i suoi talenti con i suoi doni con la grazia che ci hai fatto? l'hai curata l'hai trasformata in un giardino l'hai arricchita di perle preziose o mi porti una schifezza davanti te la sei messa sotto i piedi l'hai detruppata l'hai resa brutta hai sprecato una vita non hai fatto quello che voleva hai buttato al mare il mio progetto su di te questo succede io adesso lo sto discorrendo poi vedremo che un giudizio particolare con i tempi che ci sono dura un picosecondo forse un nanosecondo è chiaro che noi fino a quando siamo in questo mondo per capirci dobbiamo esternare dobbiamo esprimere vogliamo sentire un altro il concilio di Firenze in questi concili Lione e Firenze si parla di perché sono i due concili in cui ci furono dei tentativi di riconciliazione con il mondo dell'ortodossia e gli ortodossi al purgatorio ci credono poco ecco perché tutte quante queste affermazioni ancora anche qui al concilio di Firenze sapete che il concilio di Lione è stato nel 1274 la storia è che è stato un concilio un po' particolare perché Sant'Omaso d'Aguina è morto mentre andava al concilio di Lione perché il concilio di Lione il documento che ho letto porta la data del 6 luglio del 1274 e Sant'Omaso è morto qui vicino a dove sto io a Fossanova il 7 marzo del 1274 proprio mentre stava recandosi a Lione per il concilio eppure San Buonaventura stava recandosi a Lione per il concilio Francescana due colossi morto pure lui per il concilio proprio è tutta volontà di Dio per carità però insomma ci siamo persi un concilio immaginate a quel concilio c'erano Sant'Omaso e San Buonaventura che sarebbe uscito fuori però purtroppo non c'erano non ci sono stati il concilio di Firenze qui siamo molto più avanti siamo nel 1439 siamo quasi due secoli avanti ancora sezioni riguardante la sorte dei decunti Densinger 1304 305 e 306 leggo questa è la Vox Magisterii Ecclesie quindi quando si leggono questi copi è mettaci in ginocchio inoltre definiamo che le anime dei veri penitenti veri penitenti item si vere penitentes in dei caritate de cesserint il latino morti nell'amore di Dio prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza ciò che hanno commesso o omesso guardate linguaggio molto simile sono purificate dopo la morte con le pene del purgatorio attenzione le anime dei benitenti cioè quelle che non hanno fatto ancora abbastanza quindi che non sono riusciti a purificarsi del tutto mediante suffragi sono purificate dopo la morte con le pene del purgatorio e che riceveranno un sollievo da queste pene mediante suffragi dei fedeli viventi come il sacrificio della messa le preghiere le elemosine e le altre pratiche di pietà che i fedeli sono soliti offrire per gli altri fedeli secondo la disposizione della chiesa quanto alle anime di quello che dopo il battesimo non si sono macchiate di nessuna colpa e anche riguardo a quelle che dopo aver commesso il peccato sono state purificate o in questa vita o dopo la morte nel modo sopra descritto quindi le varie modalità con cui si va in paradiso vengono subito accolte in cielo e vedono chiaramente uno Dio uno e Trino come Egli è attenzione ma alcune in modo più perfetto di altre a seconda della diversità dei meriti capito? et in tueri clare ipsum deum trinum etunum sicuti est promeritorum tamen diversitate alium alio perfectius non c'è possibilità di equivocare quindi che significa? quanto vuoi godere in cielo? lo dico in continuazione cioè noi esseri abbiamo solo questa vita capito? abbiamo gli attimi presenti che scorrono è da pazzi furiosi sciagurati fuori di testa proprio cioè folli non pensare mai a queste cose qui una volta che sei morto non ci puoi fare niente voglia di la misericordia cioè se tu sei hai raggiunto un grado di gloria bassissimo quello te lo tieni per tutta l'eternità non cambia dopo se è stato a far purgatorio fino al giudizio universale c'è il tempo prima che arriva la morte per cercare di abbreviare un pochino i termini dopo di che se qualcuno ti va dire qualche messa la resti fino al giudizio universale 1306 invece le anime di quelli che muoiono in stato di peccato mortale attuale anche qui o con il solo peccato originale perché col peccato originale non si vede Dio e qui è stata da parlare con tutti quelli che qualcuno chiama non a torto con un certo tono dispregiativo teologastri sta scritto e l'ha detto nostro signore Gesù Cristo se non si rilasce da acqua e da spirito non si entra nel regno di Dio Giovanni 3 discorso con Nicodemo chi non rinasce da acqua e da spirito non può vedere il regno di Dio e se uno c'è il peccato originale che non è rinato da acqua e da spirito non ci va in paradiso non ci può andare non subito sicuramente è inutile che fai discorsi di te inventi chissà che cosa scendono immediatamente all'inferno anche qui per essere puniti con pene diverse avremo modo ampiamente di riparlare di queste cose più avanti poi c'è il concilio di Trento Densinger 1820 tutto 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 quanto contenuto in questo in questo passaggio del catechismo della chiesa cattolica che è il decreto sul purgatorio breve breve perché pure ruterani ma guarda un po' come mai che tutti quanti stieretici bisogna farci sempre queste domande perché se la prendono tutti quanti col purgatorio sapete perché no? ci arriviamo perché il purgatorio è quella realtà ultraterrena che maggiormente ci provoca qui sulla terra perché se esiste il purgatorio e non è una sala d'aspetto mi ricordo una catechesi storica che feci forse a suo tempo che significa? significa che se tu la vuoi risparmiare tu devi fare penitenza qui e guardate che non c'è niente da cui il diavolo ci tiene più lontano che dalla penitenza le opere penitenziali sono tre la preghiera il digiuno e l'elemosina e ciò che da questi dipende perché per preghiera si intendono anche i sacramenti per il digiuno si intendono tutte le mortificazioni dei sensi volontarie e involontarie scelte da noi o che ci manda nostro Signore e per l'elemosina si intendono tutte le opere di misericordia spirituale e corporale se non le famo a voglia purgatorio poiché la Chiesa Cattolica è istruita dallo Spirito Santo in conformità alle Sacre Scritture all'antica tradizione sto leggendo il decreto sul purgatorio del Concilio di Trento ed Enzing del 1820 ha insegnato che il purgatorio esiste in conformità alle Sacre Scritture dell'antica tradizione nei Sacri Concili e più di recente in questo concilio ecumenico ha insegnato che il purgatorio esiste e che le anime ivi trattenute possono essere aiutate dai suffragi dei fedeli e soprattutto col santo sacrificio dell'altare quando parleremo del purgatorio santo sacrificio dell'altare e ricordate se vuoi aiutare qualcuno non fate le messe minestroni non le devono fare i preti ma non devono farle neanche i laici perché c'è gente che quando chiede una messa per togliese il pensiero comincia a fare Francesco Nicola Franco e Benedetto un sacerdote non si può rifiutare di accogliere un'intenzione di questo genere ma non è una cosa buona perché una messa la fai dire per Francesco una messa la fai dire per Nicola una messa la fai dire per Loredana e la messa la fai dire per Benedetto c'era un mio parente che aveva a sua volta un parente uno zio sacerdote ovviamente negli anni e mi raccontava che questo suo zio sacerdote girava con un taccuino allora non c'erano gli smartphone per prendere delle note con le intenzioni di messe e c'aveva il calendario dentro sto taccuino e lui c'aveva la sua pennetta quando gli chiedevano una messa lui prendeva un nome uno voglio la messa il 18 novembre piastro libriccino c'è già Francesco la messa te la posso il 18 novembre chiuso il discorso c'era un motivo per cui facevano così poi ne parleremo quando parliamo del purgatorio e dei suffragi più a lunga adesso sono soltanto per non uscire fuori fuori tema allora soprattutto col santo sacrificio dell'altare il santo sinodo prescrive ai vescovi di vigilare con zelo ai vescovi di vigilare con zelo perché aspetta a loro fare queste cose prima è più che a un prete e a un parroco molto prima e molto di più perché la strana dottrina sul purgatorio trasmessa dai santi padri e dai sacri conciti sia creduta conservata insegnata e predicata ovunque i vescovi devono fare questo devono fare un vescovo è maestro oltre che sommo sacerdote e rappresentante di Cristo capo guai a lui se non fa questo guai nelle prediche rivolte al popolo meno istruito si eviteranno le questioni più difficili e più sottili che non portano all'edificazione e quasi mai all'aumento della pietà così pure non dovranno permettere la divulgazione e la discussione di punti incerti o che possano sembrare falsi proibiranno inoltre come scandali e ostacoli prefedeli quelle questioni che soddisfano sono una certa curiosità e superstizione e sanno di speculazione questo è il concilio di Trento ancora Densinger 1000 e 1001 queste sono tutte citazioni tra parentesi o in nota del numero del catechismo della Chiesa Cattolica che è bene andare a leggere per esteso oh no questo non è la tenarenza e guasto tutto questo è la bolla di Papa Benedetto XII Benedictus Deus stupenda anche questa dice 1000, 1001 e 1002 1000 è lunghissimo però la visione beatifica di Dio questa la riprenderemo sul paradiso accenno soltanto qualcosa ah questa è stupenda proprio con questa costituzione apostolica che avrà vigore in perpetuo attenzione noi in forza dell'autorità apostolica definiamo quando un Papa parla in questi termini abbiamo bello che chiuso eh in forza dell'autorità apostolica di Finimus se un Papa si esprime in questi termini abbiamo chiuso non può sorgere nessun Papa che dice ah quello che ha detto Benedetto XII non mi piace più non lo può fare neanche un altro Papa neanche un altro Papa leggo soltanto lì il prologo perché poi leggo secondo la generale disposizione di Dio le anime di tutti i santi che hanno lasciato questo mondo prima della passione di nostro Signor Gesù Cristo e quelle dei santi apostoli dei martiri dei confessori e nei quali non ci fu più nulla da purificare quando morirono non ci sarà nemmeno quando moriranno oppure qualora insomma tutte queste cose qui godranno pienamente della stessa essenza divina e così in forza di tale visione e godimento le anime di coloro che sono ormai morti saranno veramente beate e avranno la vita e la pace eterna e che tale visione dell'essenza divina e il suo godimento faccia stare gli atti di fede e di speranza mille e uno e inoltre definiamo sto andando veramente la sto mettendo in mezzo a una strada ma tanto lo dipenderemo che secondo la generale disposizione di coloro che muoiono in peccato mortale attuale peccato mortale attuale attenzione al termine subito dopo loro morte discendono all'inferno dove sono tormentate con supplizi infernali e che tuttavia nel giorno del giudizio tutti gli uomini con i loro corpi compariranno davanti al tribunale di Cristo questo è proprio un trattato di escatologia questa bolla altro riferimento vorrei concludere così finiamo almeno questo punto è al Densinger 990 un'altra bolla questa volta di Giovanni 22 che scrive a proposito della bellitudine dei santi a proposito di quelle cose che sulle anime purificate separate dai corpi se cioè prima della riassunzione dei corpi e se vedano la divina essenza con quella visione che l'apostolo chiama faccia a faccia spesso sono state dette sia da parte nostra sia da non pochi altri di nostra presenza citando la sacra scrittura dette originali dei santi altrimenti ragionando non accada che siano introdotte nelle orecchie dei fedeli cose diverse da quelle che da noi sono state dette intese ecco che noi dichiariamo nel contesto del presente scritto così come segue il nostro pensiero che riguarda queste cose noi abbiamo e abbiamo avuto in comunione con la Santa Chiesa Cattolica e quindi parla delle anime che vanno in paradiso che vanno in purgatorio e no parla delle anime che vanno in paradiso ok soltanto di queste subito dopo oh quindi chiudo perché è una verità di fede fondamentale delle scatologie lasciato il corpo l'anima incontra immediatamente il Cristo glorificato nel ruolo di giudice questo ci deve oggi oggi rimanere giudice con una sorte che può essere questa triplice sorte la prossima volta approfondiremo un pochino meglio che cos'è il giudizio particolare e come è stato anche inteso nel corso della tradizione patristica e scolastica una santa notte a chi ha seguito la diretta arrivederci a tutti coloro che sentiranno la registrazione e che Dio vi benedica e la santa vergine sempre vi protegga grazie a tutti